Per una finalità benefica per l'associazione. Il valore del dono, la solidarietà, è un'importante sinergia tra realtà cittadine per aiutare anche a Natale chi è meno fortunato. Sono questi gli ingredienti che hanno spinto Avis Fano, Avis Giovani Fano e la Proloco Fano in Fortuna, ad organizzare insieme ad altre associazioni locali un evento benefico che si terrà domenica dagli ore 15 alle 20 nel cuore della città, piazza 20 Settembre. Un dono sotto l'albero è un'iniziativa che rende il Natale più solidale perché si tratta di una pesca di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Prima del Tempo che si occupa di bambini prematuri e delle loro famiglie. Tutti i premi sono stati donati dalle attività commerciali quindi la città di Fano ha risposto in maniera positiva al nostro invito e abbiamo cercato di coinvolgere tutti quanti i quartieri quindi un ringraziamento speciale va prima di tutto a loro che ci hanno donato tutti i premi ci saranno dei ricchissimi premi, questo ci teniamo a sottolinearlo quindi è una conferma che la generosità anche a Natale vince. Noi aspettiamo tutti quanti a partecipare perché più riusciamo a essere in tanti più riusciamo ad aiutare un'associazione che sul territorio è nata da poco e quindi è un momento importante questo anche perché il Natale lo ricordiamo è per i bambini la magia del Natale per loro e quindi dobbiamo donare la speranza a tutti quanti. Oltre a questo l'aspetto diciamo anche importante è la promozione del dono, un dono sotto l'albero appunto perché ricorda l'importanza della donazione di sangue plasma e quindi anche quest'anno abbiamo deciso comunque di regalare una diciamo un'iniziativa importante anche a Natale. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a questa associazione regionale nata tre anni fa con le Almetauro con lo scopo di sostenere i bambini nati prematuri e le loro famiglie sia durante la fase di ricovero in ospedale sia dopo le dimissioni. Il punto di riferimento nelle Marche è la terapia intensiva neonatale di Ancona dove si registra il tasso più basso di mortalità a livello mondiale. Abbiamo un progetto ambizioso che si chiama Home Visiting che si tratta di un'assistenza domiciliare precoce e gratuita alle famiglie in difficoltà dopo la dimissione perché spesso avviene che c'è un gap di vuoto fra la dimissione e la presa in carico dal sistema sanitario nazionale. Queste settimane sono preziosi per il recupero delle competenze del bambino e livellarsi con i bambini nati a termine. Ma quanti sono più o meno i bambini che nascono prematuri? Ecco appunto questo è un pianeta quasi sconosciuto ai più. Non tutti sanno che un bambino ogni dieci neonati nasce pretermine e questo è un atto pretermine, ha bisogno di cure particolari, non basta sopravvivere, non basta curarlo bene in ospedale ma ha bisogno di un follow up continuo nei primi due o tre anni di vita che sono fondamentali. L'associazione prima del tempo con questo progetto ambizioso garantisce l'assistenza domiciliare tramite professionisti che vengono a casa a carico dell'associazione. Questo richiede dei fondi e per questo ci diamo da fare per accoglierli.